Professore, un numero due del governo cinese per sua stessa missione le ha chiesto come avrebbe investito al suo posto una montagna di dollari e lei ha eluso la domanda, ma non è che con questi dollari si stanno comprando il continente africano? È il dubbio che i cinesi stiano comprando questo. Sì, questo infatti quando i cinesi dicevano stiamo accumulando una montagna di dollari inutili, non sono inutili perché possono utilizzarli per acquisire imprese, terreni, miniere e infatti quello che hanno fatto. Tanto che molte nazioni dell'Africa, principalmente il Sud Africa e Nigeria, si sentono che stanno diventando vassalli, stanno diventando oggetto di imperialismo cinese. Un esempio, i cinesi controllano tutto il settore tessile del Sud Africa e della Nigeria, quindi tutte le quote di esportazione di quei paesi vanno in mano ai cinesi. I cinesi quindi quei dollari sono utilizzati molto bene dal punto di vista cinese che però comporta un controllo dell'economia dei paesi che ricevono questi investimenti, queste compere. Ora le faccio una domanda più politica, anzi oserei dire più di strategia militare. Correva voce che l'Occidente volesse far scoppiare una rivoluzione sindacale in Cina per risolvere tutti i problemi. Secondo lei porgerà l'altra guancia l'Occidente o penserà come agevolare una rivoluzione sindacale in nome della democrazia? Sì, questo si è detto, l'ho sentito in Italia anche, particolarmente in Italia, esportiamo i sindacati e questo sarebbe utile. Così i lavoratori cinesi invece di essere veramente sfruttati, riceverebbero salari più alti e comporterebbero una migliore capacità di competere con loro. Ma i cinesi non permettono questo, il governo non permette assolutamente questo. Quindi noi spesso si pensa che la Cina sia un paese aperto, è vero, dal punto di vista economico dell'impresa eccetera è del tutto aperto, ma il governo cinese controlla, controlla in modo rigidissimo. Quindi non è che permetteranno, queste sono battute che se potessero essere messe in atto sarebbero utili, il governo cinese oggi non permetterà. L'unica speranza è che fra dieci anni una generazione, perché guardiamoci bene, il primo ministro cinese non comanda assolutamente nulla, lui è solo the front man, sarebbe quello che gira, non ha nulla, non decide nulla, nemmeno una virgola, è il partito comunista dietro le quinte che noi non conosciamo che decidono tutto. Quindi finché ci sono i vecchi generali, alcuni dei quali ho conosciuto, non si farà nulla. Cosa succederà? Ci hanno tutti 70-80 anni, cosa succederà fra dieci anni? Si spera che la Cina diventi più aperta dal settore pubblico del settore del mercato del lavoro e che quindi i lavoratori ricevino più benefici del loro lavoro e che permettono all'Occidente di competere più in modo equo. Corre voce che ci siano solo 5-6 famiglie ad avere in mano tutta l'economia cinese, è una favola? Si, penso che sia. Ci sono 5 famiglie di più grandi, come ci sono le più grandi imprese in Italia, per esempio in Italia tra le 500 imprese più grandi al mondo, gli Stati Uniti ne hanno 139, il Giappone 71, Germania, Francia e Inghilterra tra 30 e 40, in Italia solo 10. Quindi adesso queste 10 quali sono? Fiat, ma non sono che controllano l'economia, anche in Cina c'è questa concentrazione economica, ci sono 5 famiglie, ma dietro di loro ci saranno centinaia di altre famiglie meno ricche che però tutti insieme, tecnicamente comandano più di quelle 5, tutte insieme se si mettessero insieme. L'Italia è un paese caro a me e a lei, corrono tante voci, cioè che per fortuna che c'è il lavoro nero, dice qualcuno, per fortuna che c'è l'avanzione di scale, qualcuno dice la bolla immobiliare non ci ha toccati perché c'è tanto abusivismo edilizio. Sì, l'Italia in un certo modo ha sostenuto la crisi anche meglio delle altre nazioni, c'è stata la recessione un po' più profonda della media europea, anche se la Germania il PIL è sceso quasi tanto quanto quello italiano, le banche hanno retto, però il problema dell'Italia non è tanto la crisi, è che ci sono problemi strutturali di fondo che non hanno permesso all'Italia nell'ultimo decennio di crescere tanto quanto le altre grandi nazioni europee, la crisi è stata più profonda e la crescita che c'è, la ripresa è inferiore alle altre grandi nazioni. Quindi ci sono problemi strutturali da risolvere prima che l'Italia riesca ad uscire dalla crisi, ma la crisi è finita, sono questi problemi che non permettono all'Italia di crescere, ma fare riforme strutturali è molto difficile quando si è con così bassa crescita, quando si esce da una crisi. E la Russia, secondo lei, queste ondata di capitali russi che stanno invadendo il vecchio continente? La Russia, ripeto, se la Russia cresce 4-5% all'anno principalmente per le esportazioni di materie prime, la Russia non ha ristrutturato la propria economia tanto quanto quella degli altri paesi del centro Europa, vive su quello. E una delle ragioni, ci sono tanti grossi, grandi imprese, ricchi, che investono fuori dalla Russia dove sono meno controllati che in Russia. Ecco, e quindi è utile per gli altri, ma ecco, la Russia si trova, non sta facendo le cose che dovrebbero fare per la crescita futura, rapida. Professore, io la ringrazio. Grazie a me. Grazie a me.